Buongiorno a tutti Il portacolori della scuderia di Maranello è rimasto inizialmente incollato agli scarichi della Forza India del poleman Giancarlo Fisichella, salvo poi assumere il comando delle operazioni dopo appena quattro tornate. Guadagnata la leadership, Raikkonen non è più stato realmente impensierito da nessun concorrente, sebbene Fisichella abbia seguito come un'ombra il ferrarista fino allo sventolare della bandiera scacchi. Il 36enne pilota romano ha quindi concretizzato quanto di buono fatto vedere nelle prove ufficiali, artigliando una preziosissima piazza d'onore alle spalle di Raikkonen, quasi come se il destino avesse scelto proprio lui per proporlo quale naturale sostituto del poco efficace Luca Bado era a Monza, in attesa che Felipe Massa termini la riabilitazione in Brasile e torni al volante della sua Ferrari. A completare il podio ci ha pensato il maidomo Sebastian Vettel, partito piuttosto indietro ma capace nonostante tutto di agguantare il terzo gradino dopo una gara tutta all'attacco. Risultato incoraggiante per il duo BMW composto da Robert Kubik e Nick Heitfeld, col 24enne pilota polacco che ha riuscito a precedere sulla linea del traguardo il compagno di squadra tedesco. Poca gloria per la McLaren e Iki Kovalainen, unico supersite tra i piloti della scuderia di Woking, abbadato a non commettere errori risalendo bene dalle posizioni di rincalzo, per poi concludere in sesta piazza. In zona punti Rubens Barrichello, protagonista in negativo al via, complice uno start a rilento, e la punta di diamante della Williams Nico Rosberg, autore ancora di una gara consistente. Giornata da dimenticare invece per l'altro alfiere della Red Bull, Mark Webber, soltanto nono all'arrivo, a causa di un drive-thru giustamente combinatogli dai commissari sportivi, per un comportamento poco corretto tenuto nei confronti di Heitfeld, in uscita dai box, subito dopo le operazioni di cambio gomme e rifornimento. Persa la calma, l'australiano è incappato in un paio di errori di guida che ne hanno ulteriormente limitato le ambizioni, facendogli quindi perdere terreno. Delusione comprensibile in casa Toyota, Timo Glock ha frequentato a lungo le zone nobili della classifica, prima di incorrere in un problema tecnico ai box, così come è accaduto al compagno di colori Ierno Trulli, penalizzato anche da un contatto al via, che l'ha costretto a rientrare anticipatamente in pit lane per eseguire le riparazioni del caso. Il tedesco ha concluso al decimo posto, mentre l'abruzzese, scattato in prima fila al fianco di Fisichella, non è riuscito a vedere il traguardo. Ennesima prestazione sottotono per Luca Baduer, giunto quattordicesimo nonostante il buon weekend, vissuto dalla scuderia del cavallino. Ricordiamo infine la grande confusione al momento dello start, con ben quattro concorrenti eliminati dopo pochi metri e conseguente ingresso della safety car. Un terza coda dell'irriconoscibile Jenson Button alle comb, ha seminato il panico privando di possibili punti il campione del mondo in carica Lewis Hamilton e gli incolpevoli rookies Romain Grosjean e Jaime Algersuari. Ritiro per il due volte ridato Fernando Alonso, entrato in contatto con la Forza India di Adrian Sutil, al momento dello spegnersi del semaforo rosso e successivamente vittima di un problema nella gestione del copricerchio di una ruota. Prossimo appuntamento sull'autodromo di Monza, dove Vettel si presenterà con tutte le intenzioni di rendere la vita difficile al leader del campionato Button, inseguito più da vicino anche dal compagno di squadra Barrichello. Buone prospettive per la Ferrari, che nell'ottantesimo Gran Premio d'Italia godrà come ovvio dell'importante sossegno della calorosa tifoseria tricolore. Vox Popoli punta tutto su Giancarlo Fisichella, vedremo. Grazie a tutti